C'è un'esigenza di comprensione del regolamento degli eredi urbani, voi come associazione di categoria avete recepito le istanze dei vostri associati? Sì, infatti sono venuta qua come presidente della Confcommercio a sezione di Fano perché è nata un'esigenza dai nostri associati che chiedono di avere delle delucidazioni sul regolamento che è stato provato di recente in Consiglio Comunale. Quindi recependo tutte queste paure o incomprensioni abbiamo deciso come Confcommercio di indire un'assemblea pubblica con gli operatori del centro storico di Fano in modo che insieme possiamo condividere e capire anche le domande e un po' le paure di quello che è il regolamento e quello che prevede. Quindi chiaramente sentendo tutta questa preoccupazione, l'abbiamo percepita proprio in tutto il centro storico, abbiamo deciso di condividere perché per me questa parola è molto importante, condividere con gli operatori. Quando si terrà se avete già pensato un giorno o una data? Ma allora sicuramente la prossima settimana perché è una cosa che vogliamo fare proprio velocemente in modo che anche per le festività natalizie magari gli operatori siano un attimino più tranquilli e quindi sicuramente la prossima settimana stiamo decidendo proprio il luogo e l'orario che comunicheremo comunque a breve e quindi spero che in questo modo riusciremo a dare delle risposte proprio a snocciolare i vari punti.